Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni sul Piemonte per il weekend. Guardiamo subito la situazione a grande scala sull'Europa per sabato e domenica, dove si può ben notare la presenza di un promotorio di alta pressione che si estende mano a mano verso nord, sull'Europa centrale, interessando anche il nord Italia. Questa configurazione anticiclonica garantirà per tutto il weekend tempo stabile e soleggiato sulla nostra regione. Quindi ci aspetta un bel weekend di sole e caldo, infatti i flussi miti e secchi dai quadranti settentrionali manterranno le temperature a valori primaverili, soprattutto nei valori massimi. Andando brevemente nel dettaglio sul Piemonte, sabato cielo sereno poco nuvoloso con venti di debole intensità che soffieranno da nord-est in montagna, con qualche rinforzo nel pomeriggio sull'Appennino, e da est altrove. I flussi di aria mite associati all'anticiclone porteranno lo zero termico fino a 2.700 metri. E le temperature minime si prevedono in aumento e le massime stazionarie. Per domenica la situazione è pressoché analoga, con cielo sereno ovunque sulla regione, eventi che soffieranno deboli da nord-est a tutte le quote. Lo zero termico è previsto in ulteriore aumento fino a 3.200 metri e anche le temperature massime si prevedono in aumento, mentre le minime si manterranno stazionarie. Per quanto riguarda il pericolo valanghe, attualmente per il weekend è previsto 3 marcato dalle Alpi Le Pontine nord alle Alpi Graie, mentre è previsto 2 moderato dalle Cozzie alle Alpi Liguri. Consigliamo comunque di consultare il bollettino valanghe aggiornato emesso il 7 marzo o guardare il video pubblicato il venerdì sul sito di Meteovetta. Da Arpa Piemonte è tutto, un saluto e buon weekend!